Il sindaco di Terranova Bracciolini chiede un'azione coordinata tra tutti i sindaci valdarnesi per monitorare il futuro degli uffici postali a rischio chiusura. Non fermiamoci qui. Anche il sindaco di Terranova Sergio Chienni prende posizione ufficiale in merito al rinvio della chiusura degli uffici postali periferici deciso da poste italiane che per il comune di Poggio riguarda la frazione di Campo Gialli. Usiamo il tempo delle prossime riunioni dunque per cercare una soluzione definitiva di salvezza per tali sedi. Così si spiega al primo cittadino. In questo tempo intercorrerà nel rinvio ci sarà un'interlocuzione tra le amministrazioni della regione e poste stesse per capire quali siano i provvedimenti da adottare, cercare di concordare insieme soluzioni che non vadano a colpire un servizio che è importante ed essenziale per i cittadini soprattutto laddove le altre sedi degli uffici postali hanno una distanza piuttosto considerevole quelle chiuse rispetto ad altre che invece resteranno aperte. Quindi è stato uno sforzo che ha prodotto intanto un primo risultato che è un rinvio ora l'importante è cercare di portare poste a provvedimenti ed iniziative che siano consone al servizio pubblico e svolgono rispetto alla cittadinanza. Occorre dunque non pensare come singoli comuni ma una mossa unitaria da parte di tutte le realtà colpite dalle novità attualmente stoppate. L'importante non è muoversi singolarmente perché sennò c'è il rischio di indebolire le posizioni quello che devono fare i sindaci è portare un piano complessivo per l'appunto nell'interesse comune che fra l'altro rispetta anche la recente sentenza del Consiglio di Stato che ha per l'appunto individuato e indicato apposte che non può chiudere gli uffici postali se non ricorrono alcune circostanze, alcune condizioni come ripeto una distanza che sia ridotta rispetto al primo ufficio postale che resta aperto.